21 dicembre 1898, i coniugi Marie e Pierre Curie scoprono un nuovo elemento, il radio. Dopo il Polonio e gli esperimenti fatti sugli atomi, i due scienziati riescono ad isolare il radio dalla Pechblenda, un minerale uranifero molto abbondante nelle miniere della Bohemia. Questa scoperta vale loro il premio Nobel per la fisica nel 1903.